A caldo la rifareste? Sì, neanche morto, adesso no, un attimo, ci si ripensa, dopo vi faccio vedere, mi bruciava da matti alla fine, abbiamo visto nel primo tratto di salita che andavate su porta, era l'inizio o volevate darci dito fin da subito? No, no, cercavamo di tenere i tedeschi perché sapevamo che avevamo 12 minuti di vantaggio su di loro, poi oggi comunque non siamo riusciti a prenderli, adesso vediamo la classifica generale, com'è andata. Ve l'ha giocata per pochi minuti? Sì, probabilmente sì. Non avete sbagliato nulla? Ma speriamo di no, insomma, non si direbbe di no. La gara è lunga, quindi ci sono degli anti e bassi. Gli schiassi sempre con voi. Sì, per te. Buono, grazie. 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 Grazie per la visione!